Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questa seconda parte del tutorial nella quale approfondiremo i cicli e le funzioni di Python. Prima di cominciare però voglio sottolineare un aspetto che mi sono dimenticato nella prima parte del tutorial, che è addirittura fondamentale per scrivere del codice in Python, e questa parte qui è l'indentazione. Praticamente cosa succede? Per identificare ogni blocco di codice di Python, che sia un costrutto condizionale, un ciclo, una funzione, eccetera eccetera, questo deve essere indentato. Per parlarne più concretamente lo vedete rappresentato in questi esempi. Quindi qua abbiamo la condizione, mettiamo i due punti e poi vedete che questa print non è allineata direttamente con l'if, è indentata. Quindi questo significa che se si scatena questa condizione, allora solo in questo caso si esegue la stampa. Stessa cosa, qui vedete che le indentazioni possono essere nidate, quindi qui abbiamo un ciclo, che li vedremo comunque nel corso di questa lezione, all'interno del quale c'è una condizione. Quindi il senso è che se questa print e questa continue vengono eseguite solo all'interno di questa condizione, invece questa print item viene eseguita all'interno del ciclo, proprio perché vedete che l'allineamento è sullo stesso livello dell'if. Comunque poi concretamente, mano a mano che andremo a eseguire il codice, sarà più chiaro capire questi concetti. Quindi scendiamo nel nostro tutorial e portiamoci sulla parte dei cicli. Una definizione di massima e quindi praticamente i cicli cosa sono? Sono una modalità per ripetere una stessa istruzione fino al verificarsi di una particolare condizione, oppure sono una metodologia che ci serve per visitare delle liste di elementi. E qui in questo blocco vedete tutta una serie di cicli che ho implementato. Prima eseguiamo il codice e poi ve lo spiego. Abbiamo qui rappresentato un ciclo while semplice. Quindi questo cosa significa? Questa istruzione print viene eseguita finché il contatore della variabile non è minore o uguale a 10. E naturalmente durante il ciclo, altrimenti il ciclo sarebbe infinito, il valore di i viene incrementato. Quindi vediamo l'inizio e inizializziamo la variabile 0. Quindi alla prima esecuzione del ciclo la variabile i è 0. Quindi andiamo a stampare il valore di i, che appunto nel primo caso è 0, poi lo incrementiamo e ripetiamo il ciclo. Quindi sarà 2, 3, 4, 5, 6 e quando sarà arrivato oltre a 10, a 11, il ciclo si interromperà e si andrà a stampare la print. Quindi se noi ci spostiamo qui in basso, vedete proprio che è esattamente come ci aspettiamo. Quindi stampiamo un valore di i e mano a mano che cresce, quando supera il valore di 10, questo viene interrotto e si passa all'esecuzione del ciclo successivo. Quindi abbiamo visto il ciclo in while, adesso vediamo il ciclo in for. In questo caso la logica è esattamente la stessa di quanto abbiamo visto prima. Cambia solo la sintassi, che quindi al posto di usare il while, utilizza il for. Quindi in questo caso cosa succede? Noi andiamo a prendere la variabile lista, che abbiamo inizializzato qui in alto. E qui cosa dice? Sostanzialmente per ogni elemento della lista stampa questo elemento. Quindi vediamo che la lista è composta da una serie di numeri, quindi è 1, 2, 3, 4, 5 fino al 10. E questo non fa altro che per ogni elemento della lista preso in ordine andarlo a stampare. Quindi se noi ci portiamo più in basso, sempre vediamo che il risultato del ciclo for semplice è esattamente come quello precedente, quindi vengono stampati tutti i valori della lista. Ora complichiamo un po' di più il nostro ciclo e quindi all'interno dello stesso ci mettiamo dentro una condizione. In questo caso il senso del ciclo è stampare a solo numeri dispari. Quindi cosa succede? Prendiamo sempre il nostro for, quindi prendiamo ogni elemento della lista. Però cosa succede? Quando l'elemento ha il modulo 2 uguale a 0, cioè questo significa quando è divisibile per 2, allora stampa il numero è pari e salto all'elemento successivo con l'istruzione continue. Quindi cosa succede? Quando si verifica questa condizione, io non arrivo a questa stampa qui perché salto all'interazione successiva. e questo lo vediamo sempre andando a vedere l'esecuzione del risultato. Vediamo? Il ciclo ha questa inizializzazione qui, stampo solo i numeri dispari. Quindi abbiamo 1, quando è 2 c'è quella stampa lì che vediamo e c'è l'esecuzione continue, quindi non viene stampato il valore dell'item. E stessa cosa così fino al 10. Quindi abbiamo capito, in questo caso, il significato dell'istruzione continue, cioè quando si verifica una particolare condizione, noi possiamo mettere questa istruzione qui e sostanzialmente viene saltato quell'elemento per passare alla fase successiva. Un'altra invece istruzione che possiamo considerare è quella di break, che vediamo rappresentata qui. Quindi in questo caso ci prendiamo sempre il nostro ciclo for e andiamo a iterare per gli elementi della lista. Però diciamo, se l'elemento che viene iterato è uguale a 4, io interrompo l'esecuzione del ciclo e quindi proprio si uscirà fuori da questo blocco di codice per passare all'iterazione successiva, che è questa printa fondamentalmente. Quindi anche in questo caso andiamo a vedere cosa succede. È questo qui, e vedete, viene stampato 1, 2, 3. Quando scatta la condizione per la quale l'elemento è uguale a 4, andiamo a eseguire questa stampa, quindi, I break the loop on the number 4. Quindi in questo caso, come abbiamo già detto, vengono saltate tutte le iterazioni che hanno un valore maggiore di 4. Quindi in questo caso vengono saltate tutte le iterazioni successive dopo che si è verificata questa condizione. Quindi, per riassumere, la differenza fra l'istruzione break e l'istruzione continue è che con la continue si salta all'elemento successivo. Con la break invece si interrompe proprio tutto il blocco del codice all'interno del ciclo. In questo caso, l'ultimo esempio che voglio rappresentare è un modo più compatto per eseguire i cicli e creare delle liste. Quindi qui cosa vado a dire? Vi dico I per un elemento I nella variabile lista, che è sempre la stessa, se I è divisibile per 2. Quindi in questo caso noi andremo a inserire in questa nuova lista solo gli elementi I compresi nella lista che soddisfano questa condizione. Cioè, quindi tutti i numeri pari. Quindi se noi ci spostiamo giù e andiamo a vedere l'altra metodologia compatta, ok? Vediamo che viene stampata una lista con i soli valori 2, 4, 6, 8 e 10. Quindi passiamo all'ultimo capitolo, cioè le funzioni. Le funzioni non sono altro che delle modalità per raggruppare dei blocchi di codice e condividerli senza dover riscrivere il codice n volte, ma rendendolo parametrizzabile. Questo ha senso quando appunto noi vogliamo creare delle funzionalità che siano replicabili. Quindi io direi di cominciare a vedere in concreto come è strutturata una funzione. In questo caso noi vogliamo abbiamo realizzato una funzione che stampa il numero massimo tra due interi. Quindi vediamo che la funzione definita da questa parola chiave DEF segue il nome della funzione e poi vengono rappresentati i parametri che ci servono. In questo caso se noi vogliamo stampare il numero massimo tra due interi semplicemente indichiamo A e B. In questo caso vedete che B è uguale a 10 proprio perché ho rappresentato un valore di default. Infatti se B non viene dichiarato quando viene chiamata la funzione questo assume automaticamente il valore 10. Quindi vedete che all'interno di questo blocco di codice in questo caso ci sono delle stampe poi andremo a... comunque quando andiamo a eseguire il codice andiamo a capire bene come vengono eseguite e abbiamo sostanzialmente una condizione. Quindi se A è maggiore di B allora naturalmente attraverso l'istruzione return questa funzione restituirà il valore di A. Viceversa restituisce il valore di B. E poi c'è la stampa che ci dice B è maggiore di A oppure A è maggiore o uguale a B. Quindi andiamo a eseguire il blocco di codice e qui potete vedere che viene richiamata la funzione in questo modo. Quindi abbiamo... chiamiamola maxInteger e li passiamo come variabili come parametri 5 e 7 e nel secondo caso proprio perché esiste il valore di default li passiamo 15. Quindi andiamo a vedere. esecuzione prima... esecuzione di funzione in corso quindi viene eseguita questa stampa qua. Abbiamo la stampa che appunto ci ricorda i valori delle variabili quindi A corrisponde a 5 e B corrisponde a 7 e B è maggiore di A. Poi questa naturalmente viene chiamata una seconda volta si apre un nuovo stack dell'esecuzione della funzione e quindi abbiamo sempre lo stesso blocco di codice che viene eseguito allo stesso modo quello che cambia è semplicemente il valore delle variabili. Quindi abbiamo esecuzione in funzione in corso A corrisponde a 15 B corrisponde a 10 A è maggiore o uguale a B. E qui potete naturalmente far caso che in questo momento viene preso appunto il valore di default che è 10 proprio perché qui viene dichiarato solo A come parametro. Se andiamo avanti ad analizzare il codice vediamo che qui ci sono due stampe e sono il risultato della prima esecuzione di maxInteger e il risultato della seconda esecuzione di maxInteger proprio perché come vediamo l'istruzione return restituisce il risultato della funzione e quindi in questo caso andiamo a esplicitarlo. Quindi vedete che qua abbiamo creato una variabile che è il risultato della prima esecuzione qui c'è il risultato della seconda esecuzione e qui appunto vengono stampati quindi nel caso in cui passiamo 5 e 7 è giusto che il risultato sia 7 perché è il valore massimo allo stesso modo nella seconda esecuzione il risultato è 15 poi ho aggiunto anche un'altra funzione che semplicemente rappresenta la conta elementi di una stringa in questo caso conta il numero di caratteri ma se li passiamo una lista facciamolo in diretta replico la riga e ci mettiamo 1,2,3 facciamo così che non crea confusione andiamo a rieseguire e potete vedere che questa qui è una funzione appunto come ho detto che conta gli elementi di una stringa o di una lista di elementi nel primo caso ethereum questo ha 8 caratteri quindi vengono riportati viene riportato il valore 8 nel secondo caso gli passo una lista di 4 elementi e naturalmente mi restituisce 4 se vogliamo andare a vedere come è scritta questa funzione cosa facciamo è dichiarata sempre allo stesso modo qui ne abbiamo una def conta elementi che è il nome con cui verrà richiamata questa funzione e poi riceve una variabile di tipo lista andiamo a inserire dentro un ciclo quindi andiamo a inizializzare una variabile che è il nostro contatore e poi cosa diciamo per ogni elemento nella lista andiamo a incrementare il valore del contatore quindi i è uguale a i più 1 e poi alla fine dopo che viene terminato l'esecuzione del ciclo si ritorna i cioè il contatore e in questo modo andiamo a restituire il totale degli elementi presenti nella lista grazie mille a tutti come sempre io vi invito a commentarmi soprattutto per chiedermi le parti che magari do per scontato e non sono chiarissime in questo modo avendo un vostro feedback io riesco a calibrarmi meglio sulle vostre esigenze e anche a darvi del supporto personalizzato in qualche modo vi ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo video grazie mille ciao da Valerio grazie mille a tutti